40 euro per una dose di 0,4 grammi di cocaina. Talvolta i clienti più affezionati, 45 quali identificati dalle forze nell'ordine, molti residenti nelle chiese, uno sconto di 10 euro. Due spacciatori marocchini, uno di 24 anni e l'altro di 25, sono stati arrestati dagli uomini della Guardia di Finanza di Erba, su ordine della Procura di Lecco. L'ennesima operazione contro lo spaccio al confine fra le province di Lecco, Como e Monza, getta altra luce sul fiume di cocaina venduta nei boschi ai margini della superstrada 36. Gli acquirenti sono stati fotografati dalle forze dell'ordine. Di fronte alle prove schiaccianti hanno dovuto ammettere ne emerge uno spaccato agghiacciante della dipendenza da cocaina. Complessivamente nel corso dell'indagine sono state ricostruite 983 cessioni di droga per un totale di 393 grammi e un valore complessivo di oltre 40.000 euro. C'è una ragazza che fra giugno e gennaio si è rivolta la coppia di spacciatori almeno 252 volte, quasi due al giorno, pochissime le cessioni sporadiche documentate. I 45 consumatori lecchesi identificati, nessuno dei quali di origine straniera, dallo scorso giugno fino al mese di marzo del 2020 si sono rivolti due spacciatori in decine di occasioni ciascuno, a riprova non solo della dipendenza ma anche della solidità della rete commerciale clandestina dello spaccio. Ma è sbagliato credere che sia stato il lockdown scattato inizio marzo a far terminare le cessioni di droga. I due ultimi arresti sono la seconda fase dell'operazione sotto bosco dopo i cinque scattati a gennaio. E proprio nelle scorse ore i carabinieri hanno pattugliato di nuovo i boschi dello spaccio con l'aiuto anche di un elicottero, sorprendendo però solo un giovane con poco più di 3 grammi di marijuana.